bene benvenuti ciao a tutti siamo in diretta ditemi poi se si sente bene anche questa è una diretta che ho improvvisato al volo siamo nella giornata di lancio oggi si lancia spacca social siamo abbiamo aperto a mezzanotte e solo per oggi ci sarà questa promo a un prezzo veramente vergognoso nel senso che mi vergogno di vendere a questo prezzo e cos'è spacca social spacca social è un training strategico che dura per quattro moduli ok tante persone hanno già fatto il primo modulo il primo modulo è le ads non servono a un razzo che è praticamente un corso che ti spiega come impostare il format per i social poi ci saranno poi tutti gli altri moduli che ti potrei vedere nella pagina di vendita che dopo vado a linkare però oggi non volevo parlare di quello voglio parlarti del valore in questo corso allora qua dietro leggerai la lavagna dove ho scritto che leggi i ticket mille euro in sostanza è quello che vale questo corso nel senso che finita questa campagna finita questa promo tutto questo pacchetto varrà mille euro con la mia consulenza oggi la possibilità di portatelo a casa per un paio di jeans perché neanche un paio di jeans ci paghi quello che ti ho fatto questa promo quindi in realtà è una offerta per un'offerta veramente vantaggiosa che dovresti assolutamente non lasciarti scappare detto questo di cosa andremo a parlare in questi giorni allora ok io con se dirette mi sto divertendo spero anche voi ci sono tre più ditemi se si sente intanto chi è connesso anche se siete i pochi perché sono live improvvisate sto pensando come vi dicevo ieri di fare più più live quindi se vi piacciono ditemelo e cercherò di fare il possibile per farne per farne di più ieri abbiamo parlato dei cazzari del marketing dei cazzari della formazione oggi mi stavo parlando che non ci compri neanche un paio di jeans con quello che ti sto vendendo questo corso e sappi che da adesso in poi il corso con me il corso di facebook marketing il corso per vendere con i social sarà in vendita in offerta a mille euro ok quindi finita questa promo per fare il corso a breve avrai il nome avrai tutto quanto dovrai cacciare una bella mille quindi oggi è la possibilità di portartelo via a un decimo in sostanza non ci compri neanche un paio di diesel però questo cambierà presto e quindi niente ti direi di approfittate oggi siamo in promo siamo in lancio quindi quali sono le domande che mi sono state fatte diciamo per questo lancio la maggior parte di voi cosa mi ha chiesto la prima cosa che mi è stata chiesto a parte il prezzo ovvero quanto costa sto corso maledizione e ok dice guarda marco io ho un sacco di nozioni non so tanta cosa tante cose da studiare non sto dietro a tutto questo corso nasce proprio per quello per te che non riesci a stare dietro a tutto sei finito nel turbine ok sei finito nel vortice di troppe cose confusionarie io con questo corso la promessa che ti faccio che ne esce con le idee chiare ti dico fai questo fai questo fai questo stop e in più alla fine ti dico ok nel tuo caso specifico questa è la tua soluzione specifica quindi nel tuo caso dovrei fare questo nel tuo caso dovrei fare quello e nel tuo caso dovrei fare quell'altro cioè una consulenza alla fine one to one cioè vado a guardare la tua pagina e ti dico cosa devi fare quanti di voi si sono trovati nella condizione di dire ho confusione in testa troppe cose nella testa non so dove iniziare devo studiare ancora un botto di roba sono indietro non riesco a stare dietro tra lavoro e tutto ecco spacca social è nato apposta per risolvere questo problema la mia promessa è che se te lo studi se mi ascolti se fai quello che ti dico in consulenza dopo automaticamente saprai cosa fare cioè la mia promessa è quella ok quindi taglio corto oggi non volevo parlare troppo volevo vedere se c'è se fosse un po di interazione ma in realtà questa diretta non l'ho annunciata mi piace proprio piantarla al volo così vedere quante persone e poi se la vanno a vedere dopo quante persone ci sono ovviamente non siamo marco montemagno che fa 800 view quando sparano diretta al volo ma piano piano insomma io non lavoro con lui montemagno avrà investito penso almeno mezzo milione se non di più per arrivare a questa condizione assolutamente io non faccio il suo gioco perché numero alla mano investire tutti quei soldi per poi non vendere una community come la vende lui cioè a low ticket non ha senso che si fanno molti più soldi usando il marketing in un altro modo quindi investendo di meno ma lavorando ai ticket ai ticket è quello che io andrò a fare che ho sempre fatto e che tornerò a fare adesso ok dopo questa promo tutto salirà alle stelle e quello che devi fare anche tu cioè tu devi renderti metterti in testa che nel tuo business in quello che fai devi cercare di attirare le persone ma poi alla fine dagli un back end ad it che c'è devi guadagnarci tanto non puoi pensare di vivere rosicando le mille lire devi cercare di creare un business che ti porta un sacco di guadagno cioè avere devi avere un sacco di margine devi lavorare su quello perché ti assicuro che lo sforzo per vendere un qualsiasi prodotto a un euro è equivale allo stesso sforzo che tu puoi fare a vendere un prodotto a mille e così cioè è vero che probabilmente a vendere a un euro hai la possibilità di vendere di più però hai più fatturazione hai più assistenza hai tutta una serie di cose in più che quando lavori invece ad alto costo non hai quindi ci sta io ho una una tecnica specifica di marketing che mi porta fuori qualcuno mi ha mi ha mi ha mi ha menzionato ok ti porta fuori ok il prodotto lo offre magari a un prezzo più basso e poi lo alza cioè questa è la mia tecnica ha sempre funzionato per lavorare con me bisogna cacciare un po di grana perché perché è nella tua testa cioè se cacci grana fai grana se non cacci grana non fai grana non esiste nessuno a sto mondo che fa soldi senza investire soldi nella formazione più investi se fai le cose ovviamente più ne trai vantaggio chi investe poco in formazione cerca di investire in briciole non riesce a tranne un cavarne un ragno dal buco cioè sostanza ragazzi non mi prende in giro è questo quindi seguite tutti questo è il mio consiglio di sempre cioè ascoltate tutti quelli che parlano perché marketing è equivale a fare gana quindi acquisire i clienti ma guarda tutto quello che che c'è dietro ascoltate tutti siete liberi oggi abbiamo la libertà di informazione perché non sentire tutte le campane ma poi quando segui quando trovate la vostra via da seguire investiteci sopra investite informazioni investite in ads investite in aggiornamenti dovete investire se pensate di fare le formichine che non investono ma non spendono rimarrete sempre stazionari quindi inutile mettersi in careggiata a cercare di fare tutto questo quindi il mio suggerimento è sempre cercare di lavorare con un grosso profitto quindi portate tutto a un alto profitto qual è il vostro prodotto che vi porta più profitto qual è ok investite lì il focus non è che dovete cambiare tutto subito però investite lì il focus perché l'alto profitto è quello che porta alla fine la tua azienda a vivere meglio perché hai i profitti per investire in marketing investire in informazione investire in marco doria e ovviamente comprarti una macchina nuova scherzi a parte non esistono macchine nuove guardate io sono anni che faccio questo mestiere sono anni che tutto quello che guadagno cerco di rinvestirlo nella professione e non mi vedete ancora andare in giro in elicottero quelli che vedete che vanno in giro in elicottero se volete domani vi faccio vedere che vado in giro in elicottero affitto faccio il video e dico che sono una persona milionaria in realtà non è così ok chi lavora online lavora duramente si lavora tanto ai tanti cazzi per la testa e soprattutto la tua immagine a volte non c'è tanti cercano di dare l'illusione di quello che non hanno posso farti noi perché conosco tutti i formatori cazzari italiani li conosco uno per uno di persona ti posso dire tutto quello che ci sta dietro quindi non prendiamoci in giro non esistono gli elicotteri ma esiste che quello che tu guadagni lo butti tutto nel tuo business perché automaticamente se non fai così automaticamente le tue cose non funzionano quindi niente oggi voglio parlare di questo c'è il lancio mi raccomando andate lì prendetevi sto corso spacca social perché ragazzi lo sto dando veramente al costo di un paio di jeans da nessuna parte si vede una cosa del genere cioè veramente sono allibito è un prezzo vergognoso vedete di prenderlo e da domani aumenta aumenta 247 euro quindi prendetevelo oggi finita questa promo questa settimana vedrete e non sto scherzando dietro c'è già il mio fan del nuovo tutto quanto uscirà mille euro non sto scherzando questo video ne sarà la prova perché non lo cancello prendetevelo oggi perché lo prendete veramente un prezzo stracciato ok vi saluto oggi continuiamo quindi con la promo continuate a comprare un abbraccio ciao da marco doria e avanti tutta ciao ciao Grazie a tutti.